Grazie a tutti. Con l'amministrazione comunale e l'assessorato allo sport della città di Grosseto è lieta di presentare la notte della grande box grossetana. Stiamo per presentare la precard di questo importantissimo evento internazionale. Innanzitutto andiamo a ringraziare la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini, la manager Armonia Cavini, il presidente della bugiristica grossetana Umberto Cavini, Fabrizio Corsini e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento. Grazie all'amministrazione comunale e all'assessorato allo sport della città di Grosseto con un ringraziamento speciale per il sindaco dottor Anton Francesco Vivarelli Colonna e per il vice sindaco e assessore allo sport l'onorevole avvocato Fabrizio Rossi. Grazie alla provincia di Grosseto con un ringraziamento speciale per il presidente Francesco Limatola, grazie alla prologo di Grosseto con un ringraziamento speciale per il presidente dottor Andrea Bramerini e al Panathlon Club con un ringraziamento speciale per il presidente signor Franco Rossi per aver patrocinato questo evento. Ovviamente non ci dimentichiamo degli ufficiali di servizio della federazione pugilistica italiana, gli organi di stampa presenti, tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento e vi ricordiamo che già da ora siamo in diretta su Media Sport Channel canale 814 di Sky, in contemporanea sul canale ufficiale YouTube della federazione pugilistica italiana e sui canali ufficiali social di Fighters Life. Dalle ore 21 quando inizieremo il programma riservato ai professionisti e quindi la main card saremo in diretta sul canale Sky 229. Ma ora è arrivato il momento di presentarvi i protagonisti di questa splendida serata, siamo per presentare il programma AOB e quindi chiamiamo sul ring tutti i pugili che questa sera combatteranno all'angolo blu. Grazie a tutti! Ed ora accogliamo con un applauso tutti i pugili che questa sera combatteranno all'angolo rosso! Grazie a tutti! ed ora vi presentiamo le battaglie che andremo a scoprire all'interno di questo fantastico ring nel primo incontro categoria 63 kg all'angolo blu per la box Nicky Riccardo Rozzi contro di lui per la pugilistica grossetana Umberto Cavini Federico Capuano successivamente vedremo un incontro a squadre che vedrà impegnate la pugilistica Raffaele Munno contro la pugilistica grossetana Umberto Cavini chiamiamo per il prossimo incontro Domenico Colella che sarà impegnato contro Stefano Iadi Marco successivamente Salvatore Bove contro Marvan Dequil Dario Cancello contro Matteo Spaventi Domenico Grillo contro Thomas Ruga Giuseppe Grillo contro Lorenzo Duranti Michele Buono contro Gregorio Tambelli ed ora vi presento due grandi campioni che saranno alla guida delle rispettive squadre abbiamo l'onore e il piacere di avere ospite questa sera un campione del mondo signore e signori Domenico Mirco Valentino campione del mondo Aiba Milano 2009 grande gloria del pugilato italiano e ovviamente alla guida della pugilistica grossetana Umberto Cavini il già campione del Mediterraneo IBF orgoglio del pugilato grossetano Simone il bandito Giorgetti un grande applauso va a tutti questi ragazzi che questa sera onoreranno il ring della bombonera e ovviamente apriranno questa magica notte della box grossetana la più cordiale buonasera da Alberto Frati Maone Massimiliano qui da Grosseto per raccontarvi questa serata targata Rosanna Conti Cavini e allora sì Alberto hai detto bene serata organizzata la Rosanna Conti Cavini abbiamo appena potuto ammirare sul ring il sottoglu per quanto riguarda la parte AOB sette saranno gli incontri dilettantistici per poi passare caro Alberto alla serata pro come diceva il buon Valerio Lamanna e intanto caro Massimiliano cominciamo a descrivere a raccontare questa serata saranno set match AOB e quattro match pro due titoli caro Massimiliano in questa notte magica qui a Grosseto ricordiamo Sky 814 in questa parte AOB per poi saltare sul canale Ammiraglia per poter vedere la parte pro Sky 229 e per chi ha la possibilità o non ha la possibilità di vedere Sky c'è la federazione pugilistica italiana prima volta su FPI Channel per quanto ci riguarda onorati, onoratissimi di potervi raccontare il pugilato dalla casa di tutti noi che facciamo parte di questo mondo e sì Alberto hai detto bene per la prima volta sono il canale ufficiale della federazione pugilistica italiana e manderemo il pugilato intanto si sono preparati per aprire le danze di questa bellissima serata di pugilato all'angolo rosso Capuano all'angolo blu Rozi e come dicevamo Massimiliano main event di questa serata due titoli il titolo italiano femminile quella tra la campionessa in carica Michela Braga contro dei lei Alessia Vitanza e poi il beniamino di casa Edoardo Giustini Dado che combatterà per il titolo del Mediterraneo VBC ebbene sì Alberto intanto è tutto pronto per iniziare questo primo incontro A o B ricordiamo all'angolo rosso Capuano all'angolo blu Rozi inizia il primo round guardia Mancina per Capuano guardia Ortodossa per Rozi Capuano leggermente più alto rispetto al suo avversario bravo qui Rozi a muoversi sui colpi in attacco da parte di Capuano bene con il diretto destro poi ancora Capuano una buona azione a due mani partono subito forte questi giovanissimi pugili tocca bene con il destro Rozi risponde bene Capuano però ai colpi del suo avversario non si lascia intimidire da Rozi Capuano tocca con il jab Capuano poi si chiude bene in guardia Rozi prova ad incrociare con il diretto destro Capuano poi il gancio destro andando indietro per il pugile all'angolo blu bene ancora con il diretto destro poi prova il jab per fermare l'azione offensiva di Capuano Rozi ora con il gancio sinistro Rozi poi il clinch tra le due cerca di staccarsi Rozi subito con il diretto destro Rozi sull'attacco di Capuano ancora con il gancio sinistro Rozi sempre un attacco Capuano bene il suo destro poi un buon sinistro un buon destro anche da parte di Rozi sull'attacco di Capuano che continua a lavorare bene intanto finisce il primo round tra Rozi angolo blu e Capuano angolo rosso buona prima ripresa da parte sia di Rozi che di Capuano Rozi partito subito forte ha cercato subito la corta distanza ha visto Capuano leggermente più più alto con un allungo maggiore ha fatto subito il suo pugilato quello che doveva fare il pugilato all'angolo blu si è mosso bene sul tronco ha cercato di accorciare la distanza e una volta arrivato vicino lavora molto bene con entrambe le mani molti corpi portati da Rozi in questa prima ripresa molto bravo anche Capuano che nel finale del primo round ha dovuto cercare un pochino di sopperire a questa aggressività di Rozi cercando anche lui un pochino di andare in avanti di accorciare la distanza e far sentire i colpi intanto è quasi tutto pronto per iniziare il secondo round ricordiamo all'angolo rosso Capuano all'angolo blu Rozi bene con il montante sinistro Capuano tocca ancora con il gancio sinistro Capuano qui il clincio di Rozi prova a rispondere ancora Capuano con il gancio destro gancio sinistro ancora il jab di Rozi ancora Capuano in attacco il gancio sinistro di Rozi ancora un po' in destro per il pugile all'angolo blu si lavora nuovamente sulla corta distanza qui ancora una volta forse si avvicina un po' troppo Rozi chiudendosi la distanza impedendosi di lavorare bel destro ancora di Rozi l'attacco di Capuano bene ancora con il montante sinistro il pugile all'angolo blu lavora molto bene con entrambe le mani dalla corta distanza prova ancora con il jab Capuano poi il diretto sinistro sempre per lui spinge un po' con la testa bassa Capuano gliele ha fatto notare anche dall'arbitro però rilavora il corpo entrambi i ragazzi ancora un bello scambio tra i due bene ancora il diretto destro di Rozi risponde ancora Capuano colpi molto larghi portati da entrambi i ragazzi e finisce anche il secondo round ricordiamo Capuano angolo rosso Rozi angolo blu anche questa seconda libretta molto molto accesa tra tra i due nessuno dei due ci sta a fare un passo indietro nessuno di due vuole lasciare l'ultima parola all'avversario quando si trovano sulla corta distanza stanno facendo un bel lavoro è la terza ed ultima ripresa siamo arrivati al terzo ed ultimo round ancora in attacco Robo Rozi Puginato molto aggressivo quello del Puginato all'angolo blu che va sempre all'attacco qui prova con il diretto destro risponde bene Capuano bravo poi Rozi a togliersi con un buon movimento sulle gambe dalla corta distanza bene il gancio adesso è incrociato da parte di Rozi a voto con il gancio sinistro prova il diretto sinistro Capuano prova il lavoro al corpo e poi finire con il gancio Rozi ha capito tutto Capuano si chiude bene in guardia a voto con il braccio avanti Rozi poi prova il gancio sinistro Capuano ancora il lavoro a due mani da parte di Rozi che non lascia un attimo di respiro a Capuano bravo qui Capuano vediamo con il destro poi il gancio sinistro ancora il lavoro al corpo puoi mettere ancora una volta il gancio destro Rozi prova ancora l'attacco Rozi e finisce qui l'incontro tra Rozi angolo blu e Capuano angolo rosso bello l'abbraccio a voi sul finale ed è la fine dell'incontro grazie a tutti grazie a tutti si accende il verdetto tra i due siamo al verdetto vince questo incontro ai punti l'angolo blu Riccardo Rozi e vince Riccardo Rozi all'angolo blu complimenti complimenti a questo giovanissimo atleta a questo giovanissimo bugile un gran bel match complimenti anche al suo avversario Capuano ricordiamo sempre che i bei match si fanno in due prima di annunciare il prossimo incontro permettetemi di salutare l'organizzatrice di questo evento la dama bionda della box italiana Rosanna Conti Cavini è già arrivata qui nel palazzetto la bombonera la delegata provinciale del CONI signora Elisabetta Teodosio e salutiamo la presidentessa del gruppo veterani sportivi signora Rita Gozzi e permettetemi di presentare un grande campione 42 incontri da professionista di cui 33 vittorie 14 delle quali per K.O. Già campione italiano categoria pesi leggeri già campione italiano categoria pesi super leggeri già sfidante al campionato d'Europa della categoria pesi super leggeri orgoglio della box grossetana ed italiana è qui con noi Alessandro Scapecchi dopo aver omaggiato il grande Alessandro Scapecchi chiamiamo sul ring l'arbitro del prossimo incontro che è la signora Ponsiglione intanto è tutto pronto per questo secondo match A.O.B. di serata vediamo all'angolo blu un grandissimo protagonista del pugilato italiano caro Massimiliano Domenico Mirko Valentino chiamiamo sul ring all'angolo blu per la pugilistica Raffaele Munno accompagnato sul ring dai maestri Munno e Valentino Domenico Colella contro di lui all'angolo rosso per la pugilistica grossetana Umberto Cavini accompagnato sul ring dai maestri Giorgetti e Ruga Stefano Iadi Marco Sì Alberto un grandissimo campione all'angolo all'angolo blu il buon Domenico Mirko Valentino uno dei talenti più cristallini del pugilato italiano secondo me tanto che è quasi tutto pronto per questo secondo match vediamo sta per salire sul ring anche l'avversario di Colella Iadi Marco Giorgetti Grazie. Ed è tutto pronto per questo secondo match di serata. E sì Alberto ci siamo, vi vengono chiamati al centro del ring i due pugili, ricordiamo all'angolo rosso Ia di Marco, all'angolo blu Colella. E inizia il primo round entrambi i ragazzi in guardia ortodosto, ovvero braccia e gamba sinistra avanti. Prova ad andare all'attacco Colella. Si muove sul tronco cercando di accorciare un po' la distanza Colella, poi sul clinch buone lavoro al corpo di Ia di Marco, qui a vuoto è l'aggancio sinistro di Colella. Si muove sulle gambe Colella, prova ad evitare il jab di Ia di Marco, non riesce, entra bene a bersaglio anche con il diretto destro, il pugile all'angolo rosso. Prova ancora a partire all'attacco Colella, buono il lavoro interno, soprattutto con i golpi, con i montanti di Ia di Marco. Qui ancora i due jab, poi però chiude l'azione con il diretto destro di Ia di Marco. Buono qui il diretto destro di Colella. Ancora il destro di Colella che ha preso bene il tempo sui due jab di Ia di Marco, ancora con il gancho sinistro Colella. Con i ganchi sinistri ha cercato di togliersi dalle corde Ia di Marco, ancora Colella in attacco. Prova ad accorciare un po' la distanza il pugile all'angolo blu. A vuoto il destro di Colella, ancora con il jab di Ia di Marco sull'attacco dell'avversario, sempre con il braccio avanti a cercare di fermare l'azione di Colella a Ia di Marco. Trova il gancio destro dalla corta distanza a Colella, ancora con il braccio avanti Ia di Marco. A vuoto qua con il jab di Ia di Marco. L'1-2 ancora di Ia di Marco, si chiude bene in guardia il pugile di Marcianise. Finisce il primo round tra Ia di Marco, angolo rosso e Colella, angolo blu. Primo round tra i due. Mi è piaciuto parecchio Ia di Marco nell'inizio del primo round, gli aveva preso bene il tempo con i jab e il diretto destro. Buono il lavoro sulla corta distanza al corpo. Nel finale è uscito fuori anche Colella, gli ha preso bene il tempo sui sinistri, si riesce a muovere meglio con il tronco un po' più fluido, pare aver rotto un po' il ghiaccio. Sembra essere un po' più tranquillo nel finale di primo round Colella. Vediamo se nel secondo round manterrà questa linea di boxe, se rimarrà così molto morbido, molto fluido, se si rigidirà un pochino come è successo all'inizio del primo round. Inizia il secondo round, ricordiamo Ia di Marco, angolo rosso, Colella, angolo blu. Qui il lavoro con i jab di Ia di Marco accorciare la distanza, poi ancora una volta prova a chiudere l'azione con il diretto destro. Ora è Colella ad andare all'attacco, prova a toccare con il gancio sinistro, trova la guardia alta di Ia di Marco. Ecco, è qui un bel montante per Ia di Marco, è entrato nella guardia di Colella. L'attacco con Ia di Marco, si chiude in guardia di Marco, cerca di uscire dalle corde. Si muove sulle gambe Ia di Marco, mirando sulla sua destra. Tocca con il jab di Ia di Marco ad interrompere l'azione offensiva di Colella. E' bravo qui Ia di Marco, anche con un buon perno a prendere le spalle dell'avversario per poi portare avversario un bel destro. Ora con il gancio destro con Ia di Marco ha trovato la guardia alta di Ia di Marco. Un buon gancio sinistro ancora per Ia di Marco, doveva per questo avversario un bel montante destro al mento. Ancora il clinch tra i due. Intervene l'arbitro per riportare la distanza per boxare. Prova ancora il montante destro nella guardia di Colella e Ia di Marco, qui testa bassa forse per il pugile di Marcianise. Con il diretto destro Colella, poi bravo qui Ia di Marco muoversi ancora molto bene sulle gambe, lascia sul posto Colella. Bene, ancora con il destro Ia di Marco, sulla corta distanza. A vuoto qui con il gancio destro di Ia di Marco, è stato bravo Colella questa volta a leggere bene l'azione, si è mosso al momento giusto. Ancora un attacco Ia di Marco, si lavora di nuovamente sulla corta distanza, però lavora il corpo e poi chiudere con il gancio sinistro. Finisce il secondo round tra Ia di Marco angolo rosso e Colella angolo blu. Andiamo a ringraziare anche gli sponsor di questo evento. Grazie a Conad, autocarosseria alla stazione, studio dentistico dottor Giulio Tappelli, Gergas, Estra, ristorante Dagigo, Aurelia Antica, Boma, Acquedotto del Fiora, Atofficina Mazzetti, pasticceria Rockflower di Salvatore Di Mella, Bigman Edilizia Commerciale, Bricolage, Oag Industries, ristorante Albatross, CC Infissi Cavini Umberto di Corsini Fabrizio, Neon BP di Matteo Ragnini, all'antico vinaio Borgo Ville di Beneno. E sta per iniziare la terza ed ultima ripresa tra Ia di Marco e Colella. Inizia l'ultimo round. Subito un attacco Colella, ha cercato di sorprendere Ia di Marco. A un po' con il destro Colella, poi bravo il movimento sul tronco. Prova il jab per poi chiudere con il destro Colella, qui bravo Ia di Marco a muoversi sul sinistro di Colella. L'1-2 sempre per Ia di Marco che con i colpi dritti sta lavorando molto bene, ancora bene il sinistro di Ia di Marco. Ancora il gancio destro, poi prova il jab Colella per dar fastidio. A vuoto Colella, bravo Ia di Marco ancora una volta con il gancio sinistro in uscita. Brava a rientrare ancora una volta, sempre il pugile della pugilistia grossetana. E qui un bel destro entrato per Colella, molto bravo. Devo alzare la testa a Ia di Marco. Bravo qui Colella a tenere la guardia alta e far infrangere i colpi di Ia di Marco sui guantoni. Ma qui forse si addormenta un po' Colella, poteva sicuramente prendere iniziativa. Si era distratto Ia di Marco, aveva perso per un attimo la concentrazione. Il jab è ancora di Ia di Marco. A vuoto con il gancio sinistro Colella. Cerca di passare ancora nella guardia di Colella, Ia di Marco, con il montante destro al mento. L'1-2 ancora di Ia di Marco. In attacco Colella. Deve girare i colpi, non deve colpire con l'interno del guantone Ia di Marco. Ancora in attacco Colella, prima il destro per lui, poi il destro di Ia di Marco. E finisce qui l'incontro tra Ia di Marco, angolo rosso, pugilistica grossetana e Colella, angolo blu, medaglia d'oro marcianise. Grazie. Siamo alla perdetto, vince questo incontro ai punti. L'angolo rosso, Stefano, Ia di Marco. E vince all'angolo rosso per la pugilistica grossetana. Stefano, Ia di Marco, complimenti anche a Colella, forse avrebbe potuto fare un qualcosina in più. Mi era piaciuto di più nella parte finale della prima ripresa, era un po' più morbido, un po' più tranquillo, più rilassato. Si è contratto poi con il susseguirsi delle riprese. Ma comunque complimenti sia a Ia di Marco che a Colella. Per il prossimo incontro, arbitra il signor Bibiani. Incontro al limite di sessantatre chili e cinquecento, tre round da tre minuti. Chiamiamo sul ring all'angolo blu per la pugilistica Raffaele Munno, accompagnato da maestri Munno e Valentino Salvatore Bove. Contro di lui all'angolo rosso per la pugilistica grossetana Umberto Cavini, accompagnato sul ring dai maestri Giorgetti e Forni, Marvel The Kill. Grazie. 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 Massimiliano, come sempre ci ha abituato, Rosanna Conti Cavini dà grande importanza anche alle entrate, da sottolineare dei pugili A o B. Sì, Alberto, hai detto bene, fa fare un pochino le entrate, se non proprio da pro, comunque prende spunto anche per i dilettanti, come entrate anche ai dilettanti che entrano con la loro musica. Qui intanto Da Kill contro Bove, Da Kill angolo rosso, Bove angolo blu. Grazie. E inizia il primo round The Kill angolo rosso, Bove angolo blu. Bravo qui Bove a muoversi sul jab di The Kill per poi entrare subito con il led destro. Trova l'1-2 Bove. Due pugili molto mobili sul ring, almeno in questa prima ripresa, bene con il sinistro-destro da kill. Ancora il lavoro con il braccio avanti da parte di Da Kill, a vuoto il gancio destro di Bove, ancora Da Kill con il braccio avanti ad interrompere l'azione offensiva dell'avversario, ancora il jab di Da Kill. Bene, qui in attacco Bove, colpi che però vanno sui guantoni dell'avversario. A vuoto il gancio sinistro di Bove, bene qui con il destro, arrivato bene a bersaglio il pugile all'angolo blu. Buono ancora lo scarico di Bove. Buono questa volta di pochissimo, ancora una volta con il gancio destro, Bove. Il jab di Da Kill. Molto bravo a muoversi sulle gambe, Da Kill, ottima scelta di tempo. Bravo, con il braccio avanti ad andare a bersaglio Da Kill. Destro e questa volta va a finire solo sui guantoni del pugile campano. Deve trovare il modo di accorciare un po' la distanza a Bove. Molto abito Da Kill sulle gambe, non concede mai la corta distanza a Bove, lavora molto bene anche andando indietro Da Kill. Qui intanto è entrato un bel montante per Bove, proprio sulla corta distanza. Finisce il primo round. Da Kill, angolo rosso, Bove, angolo blu. Buon primo round, due pugili molto tecnici, molto abili, si muovono molto bene sulle gambe e sul tronco. Da Kill lo ha fatto vedere in più di un'occasione ottimi movimenti sulle gambe a disorientare e non far trovare mai il bersaglio a Bove. Bove che dal canto suo un buon pressing, un buon attacco. In un paio di occasioni darà bersaglio con un buon gancio destro in attacco, a seguire dopo i due jab. In un paio di occasioni ben a bersaglio, in un altro paio di occasioni di poco non trova il bersaglio. Quel gancio destro è molto pericoloso, a mio avviso, da parte di Bove. Deve fare attenzione il pugile all'angolo rosso. Inizia il secondo round. Deve muoversi sul tronco Bove e cercare di evitare i colpi dritti di Da Kill per accorciare la distanza e andare anche lui a bersaglio, trovare bene il bersaglio. E qui bel montante destro di Da Kill. Non trova con il gancio destro, questa volta ancora sempre con la solidazione, due jab, gancio destro per Bove. Deve tagliare meglio la strada Bove, qui riprova ancora una volta il gancio destro, ancora una volta Da Kill bravo sulle gambe a mandarlo a vuoto. Prova a muoversi sul destro e il gancio sinistro di Da Kill, Bove, non riesce però a trovare la distanza per poter boxare il pugile all'angolo blu. Tocca bene qui con il gancio sinistro Bove. A vuoto il gancio ancora di Bove, prova il diretto destro, lo tocca bene con il jab ancora Da Kill. E qui ottimo ancora una volta il movimento sulle gambe da parte del pugile all'angolo rosso che manda a vuoto Bove. Ancora il jab per Da Kill. Ancora un bel montante destro, sempre per lui. Fatica Bove in questo secondo round ad accorciare. Non deve attaccare a mio avviso dritto per dritto, ecco deve cercare di chiudere un po' la strada di Da Kill e da qui deve lavorare Bove. A vuoto con i due ganci testi Bove, a bersaglio il gaccio sinistro di Da Kill. E ancora un bel montante destro per Da Kill. E finisce anche il secondo round. Piccone incomprensioni. Credo che mancava ancora qualche secondo. Infatti sul nostro cronometro mancava ancora qualche secondo. Sono sincero, ho sentito anche io il gong però caro Alberto. Eccolo ora. Eccolo arrivare ora. E' bello qua il montante eh. Eh sì, un bel montante destro qua. Ci prova sempre Kill. Sì, ha capito che Bove per accorciare la distanza tende parecchio ad abbassarsi. Soprattutto dopo aver schivato il sinistro tende ad abbassarsi per schivare il destro. Lo ha capito Da Kill, porta il montante e riesce ad andare a bersaglio. Bove che secondo me dovrebbe essere più rapido nel rientrare. Dopo aver schivato il primo colpo non tentare la schivata sul secondo ma rientrare immediatamente e portare la sua azione. Anche perché Da Kill ha un allungo secondo me maggiore e se Bove si mette a schivare due o tre colpi riesce facilmente a riprendere la distanza il pugilio all'angolo rosso. Deve assolutamente schivare il primo colpo per rientrare e portare a bersaglio i suoi colpi. Inizia il terzo ed ultimo round. Ricordiamo all'angolo rosso per la pugilistica grossetana con Ticavini. Da Kill contro di lui a rappresentazione della campagna Bove. Dislaccia il caschetto di Bove. Il jab è ancora di Bove. Qui bravo a muoversi. Ecco e qui deve provare a rientrare dopo aver schivato il primo colpo. O quantomeno legge bene il sinistro di Da Kill, Bove. Vorrebbe provare ad incrociare quel sinistro secondo me Bove. Incrocia e continua l'azione poi. Qui intanto gancio destro e sinistro ancora per Bove. Parte ancora in attacco il pugile campano. Poi il clinch tra i due. Si staccano senza l'intervento dell'arbitro. Poi i due passi indietro da parte di Da Kill arriva nella lunga distanza. Ancora con il montante sinistro Da Kill. Il jab ancora per lui. Deve sfruttare più le lunghe leve Di Kill, Massimiliano. Si sta muovendo bene ancora qui Da Kill. Bene con il gancio sinistro in uscita. Bello qui. Qui un bel montante destro è entrato per Bove. Poi tocca ancora con il sinistro Da Kill. Sinistro a vuoto di Bove. Bene a bersaglio poi Da Kill con il braccio avanti. Prova ancora il jab Da Kill. A vuoto Bove. E bravo ancora Da Kill a muoversi con i perni. Ancora con il jab Da Kill. Ancora 2 per il pugile all'angolo rosso. Lo ca bene ancora con il jab Da Kill. Pochi secondi alla fine dell'incontro Da Kill. Angolo rosso. Bove angolo blu. E finisce l'incontro tra Bove angolo blu e Da Kill angolo rosso. a 다 Kill. Grazie. Siamo al verdetto, vince questo incontro ai punti, l'angolo rosso, Marvan De Kiel. E vince Marvan De Kiel. Devo dire Massimiliano c'è grande sintonia tra il tecnico Simone Giorgetti e i suoi allievi. Sì assolutamente ma non è la prima volta che lo vediamo all'angolo Simone Giorgetti e devo dirti che secondo me è un gran pugile, un gran maestro, riesce a tirare fuori il meglio di sé dai propri allievi. Bravissimo, ha notato questo e comunque vuol dire tanto quando riesci a trovare sintonia con i tuoi ragazzi. Sì assolutamente sì Alberto. L'emittente TV9. Per il prossimo incontro arbitra il signor Parrino. Arbitra il signor Franchi. Cambio di guida sul quadrato. Incontro al limite dei sessantadue chilogrammi, tre round da tre minuti. Chiamiamo sul ring. All'angolo blu per la pugilistica Raffaele Munno, accompagnato da maestri Munno e Valentino Domenico Grillo. Contro di lui all'angolo rosso per la pugilistica Grossetana Umberto Cavini, accompagnato sul ring dai maestri Giorgetti e Ruga, Thomas Ruga. E fa il suo ingresso sul ring, Thomas Ruga. All'angolo blu per la pugilistica Raffaele Munno e Valentino Domenico Grillo. All'angolo blu per la pugilistica Raffaele Munno e Valentino Domenico Grillo. All'angolo blu per la pugilistica Raffaele Munno e Valentino Domenico Grillo. All'angolo blu per la pugilistica Raffaele Munno e Valentino Domenico Grillo. All'angolo blu per la pugilistica Raffaele Munno e Valentino Domenico Grillo. inizia il primo round in attacco Ruga a vado qui il pugile all'angolo rosso bravo Grillo a fare un passo indietro pare discretamente potente il pugile campano quando porta i colpi fino a questo momento tutti i colpi molto caricati da parte di Grillo qui tocca bene con il gancio sinistro prova ancora con il gancio destro Grillo vorrà un buon gancio sinistro per Grillo grazie a tutti prova con il destro Grillo a sorprendere Ruga bravo qui a rientrare Grillo poi a mandare a vuoto il tentativo di contrattacco da parte di Ruga bravo il gancio destro è ancora Grillo il jab ancora di Grillo molto rapido nel partire il pugile all'angolo blu e finisce il primo round Ruga angolo rosso Grillo angolo blu molto bravo Grillo molto agile si muove bene sulle gambe sul tronco manda spesso a vuoto i tentativi di attacco di Grillo si muove molto bene sulle gambe è un ottimo tempismo il pugile campano molto rapido nel rientrare nel bloccare quando serve le azioni di Ruga sul nascere Big Mat edilizia commerciale Bricolage Oag Industries ristorante Alpatros Cici Vissi Cavini Umberto di Corsini Fabrizio Neon BP di Matteo Ragnini all'antico vinaio Borgoville di Benelli fuori i secondi inizia il secondo round è la seconda ripresa dall'angolo neutro finisce qui il match finisce il match tra Grillo e Ruga credo per RSC Ingiuri purtroppo sentiamo il ringan house il pugile Domenico Grillo non può proseguire il suo incontro peccato stava disputando anche un bel match il pugile campano non può proseguire il nostro corso siamo pronti per annunciare il verdetto vince questo incontro per RSCE referee stop contest injury all'inizio della seconda ripresa l'angolo rosso Thomas Ruga e vince Ruga Thomas all'angolo rosso peccato peccato e si stava prospettando un bel match tra Grillo e Ruga il prossimo incontro arbitra il signor Parrino sono arrivate tre vittorie per la Toscana su sei incontri interregionale Toscana Campania contro al limite dei sessantatre chili e cinquecento tre round da tre minuti all'angolo blu per la pugilistica Raffaele Munno dei maestri Munno e Valentino Giuseppe Grillo contro di lui all'angolo rosso per la pugilistica grossetana Umberto Cavini accompagnato da maestri Giorgetti e Ruga Lorenzo Duranti Giorgetti e Ruga voglio chcias Giorgetti e Ruga piscina es piscina Grazie. 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 Guardia Mancina per Durante, guardia Orto Tossa per l'avversario Grillo. Anche qui si parte subito forte tra Durante e Grillo. In attacco Durante, bene il lavoro a due mani per il pugile all'angolo rosso, ma deve girare i colpi, non deve colpire quella parte interna del guantone. In attacco Grillo. Bene, qui Grillo, sinistro-destro. Ora bravo Durante con il gancio destro e togliersi dall'angolo. Bene, qui con il montante di Nero. Sinistro Grillo. Bene, qui con il gancio destro e togliersi dall'angolo rosso, ma deve girare i colpi, non deve girare i colpi, non deve girare i colpi, non deve girare i colpi. Intanto il diretto sinistro di Durante, a vuoto poi con il gancio destro, ancora un attacco Grillo. Bravo Durante con il movimento sulle dami per togliersi ancora una volta dall'angolo. Tocca con il prova, toccare con il braccio avanti Durante, in attacco Grillo. 10 secondi alla fine del primo round, ancora con il diretto sinistro Durante, bene poi il destro di Grillo. Finisce il primo round Durante, in attacco Grillo, in attacco Grillo. Bel primo round tra Durante e Grillo. Grazie. 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 Fuori i secondi. inizia il secondo round tra Duranti, Angolo Rosso, Grillo, Angolo Blu bello qui il sinistro di Duranti ancora con il gancio sinistro Grillo a vuoto il gancio destro di Duranti risponde immediatamente Grillo buono il montante sinistro ancora di Grillo ancora un attacco Grillo e lavora a due mani bei scambi bei scambi tra i due tocca ancora con il diretto destro Grillo in attacco Grillo riesce a portare nuovamente all'angolo Duranti ancora lavora il corpo entra un bel gancio sinistro a vuoto con il gancio destro Duranti devi fare attenzione Duranti a tenere la testa alta il destro è ancora di Grillo poi due passi indietro per lui riprende a lunga distanza il pugile campano bene il sinistro incrociato da parte di Duranti e finisce il secondo round un altro bel round tra Grillo e Duranti nessuno di due ci sta a fare un passo indietro Massimiliano no no Alberto hai detto bene nessuno di due vuole lasciare l'ultima azione all'avversario lavorano molto bene sia dalla lunga distanza che da vicino ricordiamo sempre che quando vediamo questi bei match perché dietro c'è un grande lavoro dei propri angoli assolutamente sì fuori i secondi tutto pronto per questa terza ripresa inizia il terzo round tra Duranti e Angolo Rosso Grillo e Angolo Blu è la terza ripresa ma con il sinistro Duranti però ancora sorprendere Grillo con il diretto sinistro Duranti il gancio sinistro di Grillo mentre sul preso mentre girava Grillo Duranti scusate a voi con il gancio destro di Duranti attacca bene con il diretto sinistro il pugile toscano bene l'attacco Grillo porta all'angolo Duranti buono lo scarico al corpo di Grillo qui si addormenta un attimo Grillo ne approfitta Duranti bene anche con il gancio destro ancora un gancio destro per Duranti ma deve girare i colpi un match avvincente questo non si sono mai risparmiati ancora il pressing di Grillo anche se molto più moderato in questo terzo round continua a tenere lui il centro del ring sinistro destro qui per Grillo va bravo a passare tutto il destro di Grillo Duranti pochi secondi alla fine dell'incontro bene il gancio destro diretto sinistro ancora di Duranti e finisce qui il match tra Grillo e Duranti bello l'abbraccio poi tra i due sul finale grazie a tutti 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 siamo al verdetto vince questo incontro ai punti l'angolo rosso Lorenzo Duranti e vince all'angolo rosso Lorenzo Duranti ora abbiamo qualche minuto prima di presentare l'ultimo incontro del programma riservato al fuggilato olimpico ne approfittiamo per presentare il campione italiano della categoria allievi Matteo Porcu insieme a lui il maestro benemerito responsabile del settore giovanile toscano Ivo Fancelli e ovviamente un grande applauso va a tutto il fuggilato dilettantistico toscano sempre in prima linea con i suoi tecnici e con i suoi pugili grazie al maestro Ivo Fancelli e ovviamente un grande applauso al campioncino Matteo Porcu grazie a tutti 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 1-2 Grazie a tutti 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 di contenere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Secondo Grazie a tutti Grazie a tutti Unico Grazie a tutti con i Grazie a tutti Grazie a tutti Samuero Grazie a tutti Fabio Grazie a tutti 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 Switch Subito Bene a tutti Grazie 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 a tutti Ancora Grazie a tutti Nonostante Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Essi Grazie a tutti 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 Un po' Grazie a tutti 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 Boma Grazie a tutti 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 Montante Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie 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 a tutti E tu Guardo Edoardo Giustini, pantaloncino nero con banda bianca e guantone nero, il suo avversario Savic, pantaloncino nero, guantone bianco, guardia Mancina per Giustini, guardia Ortodossa per l'avversario Savic. Pluricampione italiano Giustini, Pugile che è cresciuto tantissimo nella sua maturazione pugilistica di questi ultimi anni. Prova il diretto adesso Savic, ok bravo a muoversi sulle jeb di Giustini il Pugile Terbo. Grazie a tutti. Sì, bene con il gancio destro Savic. Lo vado con il gancio sinistro Giustini. Cerca di levare la guardia di Giustini Savic per poi portare i ganci laghi. Qui prova il gancio sinistro Giustini. Lo vado con il gancio sinistro ancora Giustini. Prova il gancio sinistro Giustini, trova la guardia alta di Savic. Finisce il primo round Savic. Angolo blu Giustini, angolo rosso. Prima ripresa molto di studio da entrambe le parti Massimiliano. Sì, Alberto hai detto bene. Prima ripresa molto di studio. Ho visto un Giustini molto più fermo sulle gambe del solido. E Savic credo che sia un avversario non facile da tenere a bata. Molto alto sul ring sta dimostrando una grandissima tranquillità. E quando trovi un pugile così tranquillo sul ring non è mai un buon segno, Alberto. E' la seconda ripresa, round two. Grazie. 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 Lo fa veramente molto questo tipo di lavoro, cerca di togliere la guardia di Giustini per rientrare immediatamente con il colpo largo. Giustini che come hai sottolineato in precedenza tu al momento sembra un po' bloccato sulle gambe, che poi è l'arma in più per... Sì perché Giustini è un pugile molto tecnico, si muove molto bene sulle gambe, accompagna ogni movimento con i colpi. E il suo avversario è un pugile più alto, non lo cerca con quell'insistenza da far muovere molto Giustini, rimane molto tranquillo al centro del ring e gli gira intorno a piccoli passi. E sta lavorando bene il serbo. Quella con i jab Giustini. Si muove bene Giustini, qui ora prova a toccare bene con il braccio avanti Edoardo Giustini. Bravo ancora Savic, è qui bravo con il montante destro del pugile serbo. Che giustini! Che giustini è stato, lasciate estutto. Che giustini è stato. Che giusta la vergogna��다 è sempre quindi per... Quasi sie quale giusta la Hobbit. Che giustini è stata. Che giusto la theositoryinals. Che giusto la laurea è sempre che viva. bravo qui con il gancio sinistro Giustini bravo qui Savic con il montante sinistro e diretto destro bella azione ancora di Savic provo ancora il gancio destro cercando di togliere la guardia di Giustini Savic provo ancora il gancio il gancio destro Savic questa volta è entrato molto bene Savic ancora con il montante sinistro Savic direttamente di Giustini ora lavoriamo con il montante al mento Giustini Giustini deve cercare di leggere il momento in cui Savic prova a togliergli la mano va bene Giustini bravo qui Giustini ottimo il lavoro a due mani finisce anche questo quarto round grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti giallo di signo fra le dita io mi consiglio in camminato scusate ma ci credo tanto perché posso fare cosa usare e sentite l'altra del salito posto rato allenato e buonasera signore e signori buoni gli attori mi conviene sofferti i coglioni mi conviene stare citti e buoni qui la gente è strada tipo sbacciatori fuori i secondi second south è la quarta ripresa round four inizia il quarto round prova a lavoro con i montanti Savic il destro del pugile serbo ancora bene con il diretto destro Savic grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti si muove molto bene Davy c'è ogni tronco prova il diretto sinistro qui Giustini crocia bene con il diretto destro Savic sul destro di Giustini bene il destro ancora di Giustini con il gancio destro Savic bel gancio destro ancora un bel gancio destro per Giustini è entrato un bel destro e gancio ancora per Savic momento difficile per Giustini ginocchio a terra per per Giustini deve restare Galmo Giustini ancora il gancio destro di Savic bel destro qui di Giustini tocca bene con il sinistro ancora Giustini finisce anche questo round e caro Massimiliano se ricordi bene anche contro Brandon Borg Giustini ebbe un attimo di difficoltà e fu proprio quello determinante perché da lì Giustini cominciò la grande risalita per quel match e speriamo speriamo anche qui Alberto grazie a tutti Fuori i secondi E' andata a bersaglio qui Versa Inizia il quinto round Subito l'attacco Giustini Bene il destro e sinistro di Giustini E' qui bel montante sinistro di Savic Ancora con il montante destro Nella guardia di Giustini Savic Ancora con il destro Savic Ancora lavorare a togliere la guardia di Giustini Provare ad arrivare con il sinistro Prima Savic Poi il jab di Giustini Ancora un bel destro per Savic Provare ad evitare il sinistro di Giustini Bel destro qua per Giustini Ancora con il montante sinistro Savic Sul destro di Giustini E' ancora bene il diretto destro Di Savic Finisce anche il quinto round Come da regolamento WBC Procediamo con l'open scoring Quindi con la lettura dei cartellini Dopo le prime quattro riprese Giudice A 40 a 35 per Savic Giudici B e C 39 a 36 per Savic Niente da eccepire Per il momento Garo Massimiliano Assolutamente no Alberto Fuori i secondi Seconds out E inizia il Sesto round All'attacco Giustini Bene con i ganci destri Dalla corta distanza Vabbè bene con la loro due Di Giustini Di Savic Era bello il destro di Giustini Ancora l'uno di Savic Ok arriva bene con il braccio Avanti Giustini Ancora con il destro Savic Ancora con il destro di Savic Bravo qui Giustini Tocca bene qui con il led destro Giustini Guarda con il gancio destro, gancio sinistro Giustini E qui tocca bene con il destro Savic E il sinistro qui di Giustini Crociato bene E qua è arrivato potente Savic E finisce anche il sesto round tra Savic e Giustini Grazie a tutti Fuori i secondi, second south Inizio del settimo round, subito all'attacco Giustini Round 7 Tocca bene le djembe Savic Momentro di stallo 3-2 Savic non ha nessuna fretta di accorciare la distanza su Giustini Prima le djembe di Savic e poi quello di Giustini Bene ancora con il montanza adesso nella guardia di Giustini per Savic Non ha nessuna fretta di accorciare la distanza su Giustini Non ha nessuna fretta di accorciare la distanza su Giustini Si prende il settimo round Si prende il settimo round Subito il montante al fegato Savic Giustini guardia bene Giustini Ancora lavoro con i canci alla lunga distanza Ancora con il montante destro Savic Ancora il diretto destro di Savic C'è un altro destro per Savic Ancora un bel gaccio destro per il pugile serbo Risponde bene Giustini A po' del suo sinistro Savic di nuovo in attacco Tocca ancora con il montante destro al mento Savic Finisce anche il settimo round tra Savic e Giustini Grazie a tutti E caro Massimiliano ricordiamo la diretta sul canale FPI Channel E naturalmente i social Fighters Life E ancora Sky 229 per questo titolo del Mediterraneo Un saluto a tutti voi tantissimi collegati su FPI Channel e Fighters Life Canali social Veramente in tanti state seguendo questo bellissimo match Siamo arrivati all'ottavo round Il bel jab è di Savic Ancora con il braccio avanti Savic Si muove sulle gambe Giustini Ancora il lavoro con i montanti Prima al volto poi al corpo Savic Bene l'aggancio destro qui di Giustini E' andato bene al bersaglio Bene il diretto sinistro ancora di Giustini Ancora con il gancio destro Savic E ancora il gancio destro di Savic Lavora al corpo Savic Ancora con il gancio destro del pugile serbo E qua è entrato bene ancora Savic Ha toccato ancora bene con il jab Eh qui fa la pirouette sul ring Savic Prova a incrociare il destro Savic Non riesce Bravo Giustini ad arrivare prima Vado con il destro ancora Savic Vado con il destro ancora Savic Bravo qui Giustini Deve continuare Giustini E finisce anche L'ottava ribresa Vado con il destro Fuori i secondi Seconds out E la nona ripresa Inizia il nono round Subito con il diretto sinistro Giustini Non trova il bersaglio con il diretto sinistro Giustini Bene con il jab Giustini Bravo qui a muoversi Su destro del suo avversario Ancora in attacco Savic L'aggancio sinistro di Savic E' ancora un bel destro di Savic Ancora il gancio destro di Savic Sembra in sofferenza Giustini E' ancora bene il montante destro Gancio sinistro di Savic Ferma il match Il maestro di L'angolo di Giustini E vince E diventa Campione del Mediterraneo WBC Savic Io credo che il nostro Edoardo Giustini Merita un grandissimo Applauso Caro Massimiliano Assolutamente si Alberto Ha trovato davanti a sé Un avversario più bravo Nulla da potersi recriminare Un avversario più bravo Un avversario più bravo Vorrei chiamare sul ring Per la consegna della cintura Il nuovo campione del Mediterraneo WBC Divizione Pesi Bridger L'assessore allo sport del comune di Grosseto L'onorevole avvocato Fabrizio Rossi L'onorevole avvocato Fabrizio Rossi L'onorevole avvocato Fabrizio Rossi Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' bello l'abbraccio. L'immagine più bella del nostro sport. Vince questo incontro per K.O. Tecnico a due minuti e trentotto secondi della nona ripresa. Ed è il nuovo campione del Mediterraneo WBC divisione Pesi Bridger da Novi Sad Serbia. Miroslav Savic. E vince all'angolo blu dalla Serbia Miroslav Savic. Caro Massimiliano arriviamo ai titoli di coda per questo lungo weekend o pre-weekend su Fighters Live. Devo dire una piccolissima, devo fare un piccolissimo appunto. Questa sera alle ventitré ci sarà il mondiale IBO di Olia contro Alamos. E naturalmente tiferemo tutti per il nostro Olia. E poi fatemi fare i complimenti al nostro Abess che ha strappato un pass per le Olimpiadi. Pugilato italiano che continua a far sventolare il proprio vessillo in giro per il mondo. Quindi complimenti ad Abess e complimenti e anzi forza Olia per questo mondiale IBO che speriamo porti a casa. Speriamo Alberto e complimenti a Giustini, complimenti al suo avversario Savic. Un avversario forte, un avversario bravo quello trovato da Giustini ma lo si vedeva già dal primo round. Stava molto tranquillo sul ring, non spregava nulla, era riuscito a prendere bene le distanze, il tempo su Giustini. E complimenti al nuovo campione del Mediterraneo WBC, Savic. E domani si continuerà a parlare di Pugilato. Domani saremo di nuovo, anche se non dietro una cinepresa o comunque dietro un commento, saremo presenti anche ad Ostia perché domani c'è da sostenere il nostro tebaccer Pietro Rossetti. Tornerà sul ring Giovanni De Garolis, tornerà sul ring nel mondo del Pugilato anche il nostro Mattia Faraoni. Lo avevamo lasciato da campione italiano, lo ritroviamo in un match di rientro. E poi tanti giovani che continuano a portare in alto il Pugilato italiano, tanti match avvincenti. Quindi domani su Dazzon, ricordiamo, Dazzon sarà alla guida di questa serata. Un grande in bocca al lupo veramente a tutti coloro che domani saliranno sul quadrato. E a noi non ci resta che ringraziare innanzitutto la Federazione Pugilistica Italiana. Ringraziare tutti voi che siete stati collegati su Sky MS Channel, canale 229, ancora una volta il gruppo Mediasport Channel al servizio del Pugilato. Continua a regalarvi Pugilato e lo fa da tantissimo tempo. E poi, caro Massimiliano, un ringraziamento a tutti coloro che sono stati con il telefonino in mano, sia su YouTube, sia su Facebook, sia su tutti i canali social. Perché noi di Fighters Life, insieme alla Federazione Pugilistica Italiana, continuiamo a regalarvi Pugilato. E allora caro Alberto, come diciamo sempre, Fighters Life, the next generation of fighters. Buonanotte! Grazie a tutti!